C'è fermento latente nei comuni che andranno al voto per le prossime elezioni amministrative. A pochi mesi dall'appuntamento elettorale, nei 15 paesi interessati dal cambio del Consiglio Comunale, tante sono ancora le incertezze a riguardo. Per l'area garganica andranno alle elezioni Carpino, Isole Tremiti, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Ischitella, commissariata l'anno scorso per una mancata approvazione di bilancio, e Monte Sant'Angelo, colpita da ben 18 mesi di commissariamento per infiltrazioni criminali all'interno dell'amministrazione. Sull'area meridionale dei Monti Dauni, a tre mesi dal voto, vige ancora un misterioso silenzio sui possibili candidati sindaco dei comuni di Castelluccio dei Sauri, Faeto, Orsara di Puglia, Stornara e Panni. Tutt'altra situazione nel versante nord dei Monti Dauni, soprattutto a Roseto-Valfortore, commissariato da circa un anno, dove già da tempo è noto il progetto di discesa in campo di Lucilla Parisi, già sindaco del paese negli scorsi anni, interessati dalle elezioni anche Celenza-Valfortore, Motta-Monte Corvino e Chieuti. Grazie. 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 Grazie.